Leavola nell'ultima giornata di campionato riesce ad agganciare questa salvezza senza passare dai play-off. Mister Campanella è arrivato qui a dicembre consapevole di questo cammino difficoltoso per raggiungere ogni salvezza. C'è sempre da soffrire mister. Sì, è così, però alla fine ci siamo riusciti. Sono contento, ma soprattutto per i ragazzi, perché abbiamo fatto veramente enormi sacrifici. Pensare che certe volte all'allenamento eravamo 8-9 che ci allenavamo e era anche 2-2, però alla fine siamo stati bravi e ce l'abbiamo fatta, anche per quei tifosi che vogliono bene all'acqua. Mister, nonostante tutte le vicissitudini che hanno coinvolto la società, praticamente lei è riuscito a tenere il gruppo coeso e camminare per la vostra via raggiungendo questa salvezza e per salvare più che altro la vostra immagine, perché poi alla fine in campo sentete voi. Poi se fare il calcio a tavola, perché se si retrocedeva io penso che il calcio finiva a tavola, ora se la spingono il dirigente, noi sono cose che non interessano. Voi avete fatto il vostro dovere, complimenti mister, consegniamo l'eccellenza a tavola, complimenti e buon riposo. Il Real Avola rimane in eccellenza. Assolutamente sì, è un patrimonio importante, importantissimo. A Paolo, arrivo, arrivo, è importante tenerlo, tenercelo forte, tenercelo forte, perché l'Avola è degli avolensi. Assolutamente, sì, ma è di chi vuole fare bene ad Avola, l'Avolensi non è, non deve essere una condizione. Capitano, lo scorso anno si gioiva per una conquista, quest'anno, gioiamo altrettanto per questa salvezza. Bene o male è la stessa gioia per questa salvezza. Assolutamente sì, sudata, faticata, ma ce l'abbiamo fatta. Quale futuro per il capitano Sirugo nel calcio? Non lo so, guarda, l'età si fa sentire, l'età si fa sentire, vediamo. Sicuramente ci rincontreremo in qualche altro campo. Sicuramente, assolutamente sì. Grazie Attilio, godetevi questo merito al riposo. Dal Di Pasquale per adesso è tutto. Ciao, ciao, ciao.